cosa può nascere da un film di poliestere preparato per la sublimazione che può essere fatta sia in all over che impiazzato beh possono nascere mille cose ma soprattutto può nascere l'arte ringraziamo tantissimo i nostri amici e clienti daniele giammario che ci hanno omaggiato di questa bellissima shopper che hanno stampato in all over e poi confezionato dove viene fuori tutta la loro capacità la loro arte e il loro amore per quello che fanno davvero complimenti ancora e grazie per averci scelti